Un confronto tra studenti delle superiori, universitari, giovani lavoratori sui temi del protagonismo giovanile a promuoverlo nell'ambito del progetto Grow Up e Ancaritas Pescara Penne. Il nodo di questa giornata è come io, giovane, posso impegnarmi oggi, come vedo il mondo e in che modo posso mettere in campo i miei talenti per questo mondo, per l'altro e anche per un mio futuro lavorativo. Insomma, una giornata della consapevolezza. Sì, possiamo dire così, che va a chiudere un percorso iniziato già da due anni, un percorso di un progetto che si chiama Grow Up, finanziato da Caritas Italiano, un progetto 8x1000 e promosso da Caritas Pescara Penne. Nell'auditorium Petruzzi di Pescara tolca i laboratori, confronto peer-to-peer nell'ambito dello scenario sociopolitico e dell'informazione otterna. In questo momento sta parlando l'organizzazione Senza Atomica, che trattano, fanno sensibilizzazione sul disarmo nucleare, e quindi ci stanno parlando di disarmo, di disarmo interiore e di come noi possiamo impegnarci a livello civico, a livello sociale per dei temi come questo, ma come tanti altri. Animatori della mattinata, oltre a balestra di Senza Atomica, Ignazia Cigna, giornalista di Open Online, in dialogo con Federico Brignacca, Operation Manager di CNC Media e Lorenzo Pedrazi, della rivista Scomodo.